Si chiama Ogliastra Guest Card e promette di diventare lo strumento innovativo tanto atteso per stravolgere le regole del turismo, mettere in reti gli operatori del settore e dare al turista gli strumenti per accedere a numerose esperienze e godere dei servizi offerti con modalità convenienti. A lanciarla è il consorzio turistico Ogliastra Blue Zone. Si tratta di una sorta di pass che permetterà al visitatore una vacanza più comoda e vantaggiosa grazie alle convenzioni con numerose attività del territorio. La Guest Card darà la possibilità di accedere a prezzi ridotti ad una serie di attività, escursioni, trekking, gite in barca, visite ai siti archeologici, eventi e tante altre iniziative. È acquistabile anche sul sito Ogliastra Blue Zone e il pass sarà gestibile attraverso una web app dedicata. L'Ogliastra è la prima destinazione turistica in Sardegna a promuovere la card. Si tratta di un progetto triennale che ha l'obiettivo di promuovere la destinazione turistica, uno strumento innovativo che nei propositi del direttivo del consorzio turistico Ogliastra Blue Zone consentirà di fare il salto di qualità. La card rispecchia fedelmente le ragioni che nello scorso giugno portarono un gruppo di imprenditori Ogliastrini a fondare il consorzio, creare una rete di operatori per un turismo partecipato e anche condiviso. Grazie a tutti.